Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, è fiducioso. La Svezia aderirà alla NATO entro l'estate. Per il vertice in programma a Vilnius, l'11 e 12 luglio, i due paesi dell'Alleanza Atlantica, ancora recalcitranti, Turchia e Ungheria, avranno ratificato l'adesione, spiega Blinken in un'intervista a Euronews dopo la riunione dei ministri degli esteri dei paesi alleati a Bruxelles. Non ho ancora, ma, basato su tutto che ho ascoltato, anche su tutti gli alli, in le mesi che abbiamo avuto, proprio oggi e ieri, chiamando per la Sveta di un'esercizio in Finlandia as soon as possible, e penso che con il summit di leader in Vilnius, ancora, spero che questo processo sarà completato. Secondo il segretario di Stato, la Cina deve fare pressione sulla Russia sia per porre fine alla guerra e rispettare l'integrità territoriale dell'Ucraina. Washington sostiene l'approccio della Commissione europea nei rapporti con Pechino e soprattutto non punta allo scontro con il governo cinese sulla controversa questione di Taiwan. Abbiamo stato molto chiaro che ci vogliamo, ci vogliamo, ci vogliamo, ci vogliamo un conflitto. Ci vogliamo, per il contrario, ci vogliamo preservare peace, stabilità, creare opportunità. Quando si tratta di Taiwan, la nostra politica è stata consistente per decadere. Noi differenze between Mainland China e Taiwan need to be resolveded. Peacefully, neither side should do anything to disrupt the status quo, non take any unilateral actions that would do that. Is there anything changing now? That is up to Beijing. From our perspective, and I think the perspective, and I heard this in conversations with many of our NATO allies as well as partners in Asia, there is concern that were there to be a crisis as a result of China's actions over Taiwan, that would have repercussions for quite literally every country on Earth. Fifty percent of commercial traffic, fifty percent of global commercial traffic goes through the Taiwan Strait every day. Seventy percent of the semiconductors that we need for our smartphones, for our dishwashers, for our cars, they're made on Taiwan. If there was some kind of crisis as a result of something that China did, that would have terribly disruptive effects on the global economy. At Turkish elections, you think? There's a process and a look to...